Fin dall'inizio mi sono trovato benissimo, fin dal primo giorno che sono arrivato qui ho trovato comunque i compagni che mi hanno accolto benissimo, una società comunque organizzata, una società importante e sono felicissimo di essere qui. Ah sì, è stato un momento difficile, specialmente quando sono arrivato io, però vedevo comunque il gruppo che si arrenava sempre bene, ne dava sempre il massimo, quindi sapevamo comunque che prima o poi saremmo usciti da questo momento difficilissimo, comunque grazie anche a noi stessi, alla società che comunque ci è stata sempre vicino e ripeto, allenamento dopo allenamento abbiamo sempre dato il massimo e sapevamo che prima o poi noi saremmo usciti e ora siamo tutti quanti contenti e dobbiamo continuare così. Ma noi pensiamo partita dopo partita, comunque abbiamo accorciato un po' su quella zona lì i play-off, però dobbiamo dare il massimo e pensare, ripeto, partita dopo partita perché comunque è ancora lunga, però noi comunque daremo il massimo. Come ha detto lei, viene da tre sconfitte di fila, quindi vorrà sicuramente fare la guerra lì, soprattutto da loro in casa, una squadra forte, giovane, però noi comunque daremo il massimo e cercheremo di dare continuità ai nostri risultati. Sarà comunque una partita difficile, però noi scenderemo in campo e daremo il massimo.